La scadenza per il versamento della mini IMU si avvicina per i cittadini che vivono in quei comuni dove l'aliquota 2013 per la prima casa era superiore a quella del 4 per 1000 di base fissata dal governo. Il pagamento dell'imposta scade il prossimo 24 gennaio. A dalci ulteriori delucidazioni in merito è il tributarista Antonio Pagliarulo. Scatterà non per tutti, scatterà solamente per quei contribuenti che hanno fabbricati all'interno di quei comuni che hanno un'aliquota superiore all'aliquota base del 4 per 1000. Nel nostro territorio, nel Vallo di Diano, unicamente due comuni, quindi unicamente i cittadini che hanno immobile all'interno di Sala Consilina e di Polla dovranno quindi verificare se devono o non devono versare questo tributo. Nella fase di calcolo devono comunque considerare le detrazioni per l'abitazione principale e le detrazioni per i figli al di sotto dei 26 anni che sono residenti all'interno del nucleo familiare. Quindi questi cittadini che, come dicevo prima, hanno immobili all'interno di comuni che hanno un'aliquota superiore a 4 per 1000 devono effettuare questo calcolo. Il calcolo è semplice, sostanzialmente bisogna considerare la differenza d'imposta che va dall'aliquota base all'aliquota applicata dal comune. Una volta applicata l'imposta, versarne il 40% con il codice 3912, che è lo stesso che si applicava prima per il versamento dell'IMU sull'abitazione principale. Per effettuare il versamento bisogna usare il modello F24, ancora meglio il modello F24 semplificato, inserire i dati anagrafici del contribuente, inserire il codice catastale del comune, ad esempio come quello di Polla G793, inserire il numero degli immobili, che in questo caso sarà 1, inserire la rateizzazione 0101 e poi ovviamente inserire il codice, come abbiamo detto prima, che è il 3912, che contraddistingue l'abitazione principale e la minimo. Sempre per il 24 gennaio è fissata un'altra scadenza. Dei 30 centesimi al metro quadrato che erano abbinati alla Tares e che scadevano appunto il 16 dicembre, sempre nella legge di stabilità questa scadenza è stata prorogata anch'essa il 24 gennaio del 2014, quindi i contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare il versamento il 16 dicembre possono stare tranquilli, possono avversare anche nel 24 senza l'applicazione di interessi né di sanzioni.